Dagli epogei del 1058 alle tombe dell'antica necropoli, arrivando alle case matte della guerra mondiale, un patrimonio archeologico si nasconde nel sottosuolo di Ceglie e Carbonara. Proprio lì dove sorgeva l'antica Caelia, uno dei primi insediamenti del territorio, un tesoro culturale potrebbe diventare la spinta per il rilancio della zona. Ad affermarlo è Matteo Giovagnello, presidente dell'associazione ASCS, che ha mostrato un percorso che attraversa il territorio del quarto municipio, che oggi versa nel completo abbandono. E per esempio è ciò che accade in via Martinez, dove appena sotto la strada è possibile individuare un grandissimo insediamento nella roccia, o poco più avanti, dove durante dei lavori stradali vennero alla luce le testimonianze della presenza dell'uomo in quella che era la prima via verso il mare. Per intenderci tutto ciò si trova alle spalle di Corso al Cile del Gasperi e oggi è coperto da delle lamiere protettive. Non è andata tanto meglio alle decine di siti emersi nella zona di Ceglie, dove la memoria storica è affidata alla buona volontà dei cittadini. Ma l'abbandono riguarda anche tempi più recenti, come il rudere di quello che doveva diventare uno dei più grandi ospedali del sud. A proposito, anche qui ci sono delle antiche tombe nel sottosuolo e che oggi è diventato luogo di rifugio per Colombia e chissà chi altro. Naturalmente a pochi passi da un'antica abbazia, anch'essa ovviamente diventata una discarica a cielo aperto. Noi abbiamo l'abbazia, abbiamo le tombe, abbiamo gli scavi, è pieno di cose antiche. Chiediamo alla regione o a chi è che sia di fare un bel progetto per rivalutare tutto il quartiere. E lo possiamo fare, a noi non manca niente con fronte agli altri. Queste sono le prove. Un'abbazia, delle tombe, degli scavi, però nessuno fa niente. Tutto viene abbandonato, i pogei, i bunker, tutto abbandonato. La nostra storia non c'entra niente. Solo quello, chiediamo semplicemente un intervento e immediato. Cioè per quello che vedete fra poco l'abbazia è del 700, resta solo il 700.